benvenuti in questo nuovo video teoria oggi parleremo di shanks il rosso akagami e proviamo a rispondere a ciò che è avvenuto nell'ultimo capitolo quindi vi invito anche a recuperare la nostra live di domenica scorsa però faremo anche un salto in avanti ma prima di fare ciò dobbiamo sembra una battuta fare un salto nel passato quindi ripartiamo da una parte delle nostre vecchie analisi dalle nostre vecchie teorie soprattutto in riferimento al nostro video su shanks che vi invito a recuperare e che vi metterò qui nelle schede ma anche anche su una piccolissima parte dell'opuscoletto road to laughter il numero 3 infine passeremo al capitolo odierno e alle teorie nuove ovviamente quindi bando alle ciance e partiamo allora parto dalle info del nostro vecchio video teoria shanks è stato fino a oggi l'uomo dell'equilibrio anzi l'imperatore dell'equilibrio infatti crediamo che egli abbia temporeggiato e quindi fatto da tramite per tutto questo tempo fino ad oggi in attesa che arrivasse il nuovo rete pirati anzi il nuovo joyboy rufi quindi lui fino ad adesso ha atteso il ritorno metaforico dell'uomo della promessa dell'uomo della profezia come tutti noi sappiamo che è rufi ovviamente come tutti noi sappiamo shank si ha scommesso su rufi perdendo il suo braccio affidando il cappello di paglia quello appartenuto a gol di roger infatti quando incontrò rally gli disse che aveva conosciuto un ragazzino che diceva le stesse identiche parole del suo capitano oltre a fatto ovviamente del frutto ma quello è stato il fato il destino ne parleremo più avanti inoltre sappiamo bene che andò da newgate barba bianca per convincerlo a fermare ace dall'affrontare teach perché era un nemico troppo pericoloso sappiamo anche che fermò kaido che voleva presentarsi a marineford durante la guerra della supremazia poi lui stesso stesso shanks andò a marineford a fermare la guerra quindi prima fermò kaido per non creare ulteriori problemi poi fermò la stessa guerra sulla parte finale ovviamente dopo i due anni di time skip lo rivediamo prima di un matrimonio con la nuova taglia di rufi da 500 milioni poi successivamente fatti di walk e kailan lo vediamo su una scorriera ad ammirare la nuova ed incredibile taglia di rufi un miliardo e mezzo quando il capitano di mugiwara venne definito il quinto imperatore ovviamente da big news morgan pochissimo tempo dopo lo rivediamo nella terra sacra si presenta lì dinnanzi ai cinque assi di saggezza il gorosei prima che iniziasse ufficialmente il riveri o levelli come preferite per parlare di un certo pirata se analizziamo tutte queste cose tutte queste situazioni tutti questi momenti diversi shanks viene sempre presentato come un protagonista pacifico rispetto alle ostilità l'uomo si ha sempre cercato di mantenere quello che è l'equilibrio noi sappiamo bene da flashback di odin quando c'era anche roger newgate quando ci furono tutte quelle situazioni molto importanti che nell'ultima parte del viaggio lui e baggy non arrivarono all'after quindi è importante questo perché nonostante ciò shanks e baggy ancora oggi hanno un ruolo fondamentale ma ricordiamoci che roger ci teneva molto a shanks tanto da affidargli il cappello di paglia quasi come se fosse un passaggio di testimone per la ricerca no del re all'interno delle future generazioni fatto sta che adesso in questo momento è finito il tempo di temporeggiare appunto scusate il gioco di parole anche per shanks l'equilibrio non c'è più rufi ormai è pronto a compiere la profezia ad attuare e volere la volontà editata di j boy e roger quindi il russo non ha più nessun motivo di fare da intermediario tra le varie forze in campo governo marina pirati inoltre nell'opuscolo numero 3 di roade to laftel che mi invita a recuperare abbiamo tradotto settimane fa ci arrivano altre piccole info e conferme shanks viene definito un leone dormiente che si muove in modo silenzioso cerca di mantenere l'equilibrio del mondo e mantiene da tempo il ruolo di osservatore del nuovo mondo anche se poi si è presionato a reverie come sappiamo gli stessi astri sostengono che se egli volesse potrebbe divenire una grandissima minaccia se spinto poi ad agire infatti quando shanks entra in azione i suoi effetti si diffondono in tutto il globo e non si potrebbe arginare in nessun modo e poi viene sottolineato ovviamente il rapporto che c'ha shanks con rufi questo che abbiamo detto fino adesso fa parte del nostro vecchio videoteoria e dell'opuscoletto che vi abbiamo raccontato da ora in poi passiamo alle news quindi alle nuove informazioni e alla parte nuova del videoteoria quindi come avevamo detto in passato anche nel nostro video eccetera eccetera shanks fino a oggi è stato l'uomo dell'equilibrio ma ormai tale status non esiste più è arrivato jboi c'è è pronto a compiere il destino quindi è giunto il momento di partire per la sfida finale la sfida per il grande tesoro il lo come preferite one piece naturalmente non possiamo intendere shanks come un villain in stile teach bensì un rivale maestro un banco di prova un po come avveniva tra il maestro muten e il giovanissimo goku oppure con kenshin e suo maestro di spada sei giro ico una sfida finale personale quindi capiamo che shanks non può essere un villain un cattivo perché lui come reili come crocus è un ex rogers un'ex pirata della surma di roger il re dei pirati quindi è l'uomo che ha donato a rufi quindi avevamo detto il cappello l'uomo della promessa volontario o no al protagonista gli ha permesso anche di ingerire il frutto leggendario e ha scommesso il suo braccio come avevamo detto tutto quello che c'è dietro quindi non ci sarebbe nessuna qualità malvagia all'interno di questa persona a meno così speriamo poi se votateci diversamente amen vi ricordiamo anche che shanks e buggy come dicevamo prima non sono mai approdati all'after però dissero che ci sarebbero voluti arrivare in futuro con le rispettive surma chissà cosa succederà quindi se volessimo metterla dal punto di vista filosofico questa prova shanks in questo momento rappresenta roger che provava a mettere diciamo come banco di pro a testare questo nuovo re questa nuova leva questo joy boy quindi il suo sogno e potrebbe assumere un ruolo chiave di rivale ma una giusta rivalità come compimento di un percorso non un nemico nell'accezione classica perché ovviamente shanks come abbiamo detto fino ad ora fatto da osservatore di ogni cosa è stato capace di cogliere ogni dettaglio ogni avvenimento capendo il vero senso di tutto ovviamente abbiamo visti vari capitoli noi fatto di busugo jinbe perché parlarono del fatto che shanks rubò il frutto di proposito e queste cose qui sono molto molto importante perché probabilmente lui poteva sapere il vero valore effettivo di tale frutto ovviamente non sappiamo ancora come ha fatto shanks a sapere precisamente del frutto di tutte queste cose potrebbe avere dei collegamenti un po ovunque fra marina governo la sua rete no molto importante molto aperta inoltre sempre facendo un'illazione potrebbe essere che il frutto e cappello sarebbero dovuti andare ad un altro bambino tipo ace all'epoca magari roger gli suggeri così ma poi il fatto il destino ha voluto diversamente perché jay boy è rufi perché nike è rufi e il frutto l'ha riconosciuto è lui l'uomo del destino inoltre molti di voi ci hanno chiesto perché shanks fosse sulle rive di wano in questo preciso momento e poi decidesse di non incontrare più rufi noi vi riportiamo alcune semplici risposte voleva incontrare rufi ma poi cambia idea potrebbe in qualche modo sapere di pluton voleva essere sicuro che non ci fossero più problemi a wano per la questione di caido e big ma sapeva che fino a poco prima all'iviere il governo e quindi poteva pensare in qualche modo di provare a intracciarli o ancora poteva sapere che c'è la marina quindi l'ammiraglio e quindi potrebbe decidere di provare a rallentare a fermare la nave da guerra che sta arrivando e magari anche a ramachi e quindi risolvere così la questione potrebbero esserci poi ancora altre motivazioni che scopriremo nel capitolo 1055 questo che vi ho detto potete riascoltarlo benissimo nella live di domenica quando abbiamo scritto il commentone sabato venerdì sabato non mi ricordo e quindi ve le sto riportando queste varie informazioni diciamo che le ultime quelle del governo e della marina possono sembrare quelle un po più sensate in tale senso dal punto di vista di oda mi raccomando se questo video vi sta piacendo siete arrivati fino a qui mettete like ed iscrivetevi che è gratis shanks quindi giustamente potrebbe prendere parte alla sfida per one piece e chissà che anche buggy partecipi in qualche modo fortunoso magari a tale gara ci troviamo quindi in un momento fondamentale di one piece anzi questo capitolo il 1054 ha rappresentato l'essenza di quest'opera il passato di quest'opera per capire quindi il suo vero scopo per ciò che concerne la caccia da one piece secondo noi dobbiamo anche cercare di capire la sua origine se c'è un legame con il governo mondiale un legame con rox un legame con qualcun altro oppure se tutto quello che rappresenta shanks oggi è solo il frutto del suo percorso con la ciurma di roger quindi ad averlo reso così come un personaggio veramente misterioso e importante un'altra cosa molto interessante in riferimento sempre al capitolo 1054 è il fatto che nel preciso momento in cui shanks parla con ben beckman del one piece di andare a prendere one piece o da ci mostra una tavola spettacolare una tavola solenne un momento vedete una tavola bianca il sacchè eccetera eccetera in cui appunto ci viene mostrato il sacchè le tazzine chissà se questo è un collegamento un riferimento sempre con questo fantomatico tesoro appunto il o lo one piece quindi sarà sicuramente una sfida vincente anche shanks si aggiunge ci sono lui c'è ticci c'è buggy ci sono ancora altri pirati sempre più bello vedremo cosa succederà ovviamente sappiamo tutti che rufi e re rufi e geboi e quindi alla fine ci sarà solo un vincitore da questo punto di vista comunque parlando del rosso sicuramente i suoi achi saranno qualcosa di magico qualcosa di fantastico l'abbiamo già detto nel video teoria visto che ad oggi è l'unico degli imperatori non fruttato deve avere per forza gli achi ai massimi livelli un po come era roger no noi ci immaginiamo filosoficamente una tecnica simile a quella di roger contro oden un camusari pieno di achi del re no a versione delle divinità detto ciò il video è finito mettete l'hashtag la mossa di shanks diteci voi cosa ne pensate se siete d'accordo con noi oppure se avete idee diverse per voi cosa farà shanks qual è il suo piano è un alleato è un villain è un banco di prova che cos'è cosa farà aspettiamo un vostro commento bello brutto o anche da sfogliatore iscrivetevi mettete like passate da tutti i nostri social e vedete tutte le info super grazie abbonamenti iscrizioni di nuovo iscrizioni tre volte iscrizioni e like un bacio dal canale della verità